Di bute, alla speciale console Mr. Cecco DJ, I.M. Arcotis, la speciale animazione, il bar alla security Questo è il sabato notte unico in Lombardia, D.A. 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 Benvenuti ragazzi D.A. Questo è il 1998, quando ancora le farfalle non muovevano le ali per volare Oioioi Vorrei comprare Vedere, comprare Con gli occhi grandi, Dina Questa apertura di sabato Per finire sempre la domenica mattina In una grande piazza 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 Comandare L'astronave galattica In una grande piazza 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 Grazie a tutti. 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 Come? Come? Yeah, yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... Grazie a tutti. 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 come noi fuori 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 moda fuori tempo fuori orario fuori 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 fuoriius Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti.